Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per dirvi una bellissima novità. Innanzitutto, non so se avete notato il nuovo look del canale, o meglio, il nuovo nickname, perché non sono solo dei MissBet87 adesso, ma ho aggiunto SoFX. Betta, e che è SoFX? So è l'abbreviazione del mio negozio make-up, Street Funded Shop, FX, effetti speciali. Perché questo cambiamento? Perché in questi mesi di lockdown ci abbiamo riflettuto tantissimo, io e il mio compagno, e abbiamo pensato di creare un cocktail social, nel senso che mischiare dei MissBet87, canale YouTube, al nostro lavoro, quindi il negozio online di make-up e lenti a contatto. Essendo che ho un canale beauty, perché no, interagire con voi anche con il mio lavoro? La cosa mi sembra bellissima. E quindi sì, ho deciso di realizzare appunto dei contenuti molto, molto belli, inerenti anche al make-up horror, e non solo. Quindi, adesso vi dico la novità. Vedrete sempre i miei video della betta, beauty, recensioni. A breve vedrete una nuovissima rubrica fissa, con tanto di calendario e date fisse ogni mese, che si chiamerà Sew Lab, quindi Street Funded Laboratorio. Ci saranno, per noi e per voi, due ragazzi bravissimi, una coppia eccezionale di professionisti e make-up artist di effetti speciali. E non solo, quindi ne vedrete delle belle. A giorni vi pubblicherò un video dove potrete conoscerli. Si chiamano Max e Giulia, loro si presenteranno a voi, e successivamente, con due date fisse al mese, potrete vedere i primi video della rubrica Sew Lab. Loro hanno aggiunto Power, quindi si chiamerà Sew Lab Power, perché loro sono veramente una potenza unica insieme, e lo scoprirete sicuramente. Come potete vedere dalle foto, sono fantastici, sono una coppia talentuosa, sia come attori, perché anche loro partecipano agli eventi horror, sia come make-up artist. Sono veramente bravissimi. Detto questo, sì, Sew Lab sarà una rubrica interessante, soprattutto per chi si vuole avvicinare al mondo degli effetti speciali del make-up, del body painting, e non solo. Ci saranno dei video mensili stratosferici, dove, oltre ad essere dei video, dei contenuti veramente speciali e ricchi, e ricchi di talento, saranno dei video che partiranno dal basic, quindi dalle basi, fino ad arrivare a make-up veramente straordinari. A questa rubrica, ecco, ci tengo tantissimo. Io e il mio compagno l'abbiamo pensata per, appunto, interagire con voi, anche con il nostro negozio. L'abbiamo pensata per farvi arrivare il talento di vari professionisti direttamente a casa, essendo che questo periodo è un po' così. Vogliamo cercare di renderlo un attimino più colorato? E anche horror, diciamo, perché l'horror, perché amante, l'horror non stanca mai, sinceramente. Quindi, sì, esservi io il più vicina possibile con i miei contenuti. E questi ragazzi, questi professionisti, vicini a voi, con il loro talento. Quindi, spero che questa iniziativa vi piaccia, spero che questa rubrica diventi il vostro appuntamento fisso mensile, veramente me lo auguro con tutto il cuore, anche perché ne vedrete delle belle sul serio. E nulla, per rimanere aggiornati dei nuovi video, oltre ai miei, ma anche di video Street of Funded, quindi la rubrica Solab, cliccate la campanellina qui sotto e, perché non lo è, magari iscrivetevi ecco al canale. E i social, Instagram, Facebook, ve li lascio tutti, giù nell'infobox. E nulla. Li conoscerete molto presto, a giorni appunto caricherò il loro video presentazione e poi scoprirete le date della rubrica, ovviamente da giugno. Io vi mando un abbraccio virtuale, un bacione grandissimo e ci vediamo molto presto in un nuovo video. Ciao! Ciao!